Il Governo ha approvato la legge di bilancio, mi soffermo su due punti proposti da Draghi. Primo una modifica relativa a quota 100, l'altro punto relativo al reddito di cittadinanza. Mi pare che il Governo si stia muovendo su una linea di ragionevolezza, di buonsenso e di responsabilità. Quota 100. Quota 100 è costata l'Italia un sacco di miliardi. L'obiettivo, questa era una battaglia soprattutto della Lega, mandare in pensione a 60 anni una parte di lavoratori del nostro Paese, soprattutto impegnati in lavori pesanti, disagiati, doveva servire a far entrare nel mercato del lavoro i giovani. È avvenuto esattamente il contrario. Anziché avere per ogni pensionato tre giovani occupati, abbiamo avuto per ogni tre pensionati un solo giovane che è andato a lavorare. Draghi sta mettendo riparo ad una misura francamente insostenibile. Noi dobbiamo anticipare il pensionamento per le fasce femminili, per i lavori davvero usuranti, per chi davvero ha cominciato a lavorare a 16 anni, ma non ci possiamo più consentire il lusso di pagare 40 anni di pensione a chi non lavora. Abbiamo la massa di risorse per il sistema pensionistico che è la più alta d'Italia, la più alta d'Europa. E' evidente che questo sistema rappresenta un danno pesante per le giovani generazioni. Draghi ha imboccato, credo, una strada corretta, giusta. Reddito di cittadinanza. Si comincia a porre rimedio ad alcune delle disfunzioni, diciamo così, che questo provvedimento ha rivelato. D'accordo tutti a dare una mano alla povera gente. D'accordo tutti a dare un reddito anche minimo a chi non ha la possibilità di andare a lavorare. Disabili, persone di una fascia di età che rende difficile il ricollocamento, ma era inevitabile, necessario, giusto andare ad una stretta per eliminare distorsioni, speculazioni e soprattutto per non avere la situazione che abbiamo conosciuto questa estate. Non c'era quasi più la possibilità di trovare un lavoratore stagionale nell'industria di trasformazione dei prodotti agricoli, negli stabilimenti balneari, nei ristoranti, negli alberghi. Bene, si imbocca un'altra strada. Chi riceve un'offerta di lavoro e per la seconda volta la rifiuta, se ne va a casa e non prende più niente. Avevamo proposto questa estate un'altra misura, ma il governo allora non aveva recepito quella nostra proposta, e cioè mantenendo intatto il reddito di cittadinanza impegnare in un lavoro stagionale i percettori di reddito di cittadinanza ricevendo in più, in aggiunta, 500 euro al mese pagati dalle imprese e il trasporto gratuito pagato dalla regione. Questa proposta che abbiamo fatto al governo nazionale non è stata accorta, ma vedo che oggi si prendono decisioni che vanno nella direzione di un meccanismo più selezionato, più ridotto, più controllato nella erogazione del reddito di cittadinanza e soprattutto si impegnano i percettori a trovare lavoro, non a rimanere passivi. Ho voluto solo fare questi due richiami per dire che compatibilmente con un governo che ha un sostegno parlamentare molto complicato mi pare che si stiano prendendo decisioni che vanno nella direzione giusta ed è bene riconoscerlo.